Sopraluogo questa mattina per i lavori qui alla stazione di Bordighera, anche per eliminare le barriere architettoniche, sicuramente è un passo importante. Certamente era quello che ci voleva, che la cittadinanza sia quella esterna, cioè quella che vedeva da fuori, che quella locale chiedeva. Io personalmente sono una che viaggio molto in treno, quindi questa esigenza ci voleva. E soprattutto perché se la stazione di Bordighera viene riqualificata si ha anche la possibilità di richiedere nuovamente i treni perché è necessario, non possiamo abbandonarli. Quindi più treni, più servizi, anche più regionali, io non sto chiedendo chissà quali, però insomma i regionali, gli intercity, questo è il nostro discorso. E poi anche il lavoro di coesione insieme all'amministrazione, insieme a RFI, questo è molto importante. Quando si vuole ottenere un qualcosa non c'è colore politico, l'importante è arrivare a un buon risultato.